Gentili telespettatori, buona giornata. Mario Giordano nella sua trasmissione Fuori dal Coro parla del Green Pass e fa alcune riflessioni e dice questo su Rete4 nel suo programma. Stiamo accogliendo persone che arrivano per la crisi internazionale. Non sono vaccinate, molte non sono vaccinate perché da quelle parti le vaccinazioni erano fatte sul 35% della popolazione, quindi molto di loro non sono vaccinati, il 65% non hanno nessun tipo di vaccinazione e dice beh non hanno ovviamente bisogno di avere il Green Pass per arrivare in Italia perché tu le porti in Italia e poi gli dici ma il Green Pass non ce l'hai, ma Green che? Ecco, intanto la certificazione verde forse è destinata sicuramente ad andare avanti oltre il 31 di marzo quando scade lo stato di emergenza e dice noi accogliamo queste persone e giustamente non gli si può chiedere la certificazione verde, dice Giordano. però forse questo ci fa capire che è folle chiederle invece agli italiani. Con tutto quello che sta succedendo noi siamo ancora fermi al Green Pass. Giustissimo non chiederlo a quelli che arrivano in Italia. Cosa facciamo? Se non ce l'hanno lo rimandiamo là. Mi sembra una riflessione abbastanza corretta. E allora dice perché gli italiani sono senza lavoro? Ce ne sono più di 500.000 over 50 che sono a casa senza stipendio perché hanno scelto di non vaccinarsi. Appunto dice hanno scelto di non vaccinarsi consapevoli delle conseguenze del loro gesto che si folle perché mette a rischio la loro stessa salute per paura o ideologia nei confronti di uno dei vaccini più sicuri mai creati e ormai testati su miliardi di persone in tutto il mondo. Intanto dice non possiamo non posso andare al lavoro e pagare bollette mutuo non so come fare. Vanno nella trasmissione di Giordano a dire questo nel senso che ad esempio Giordano ha invitato un over 50 che non si è vaccinato e dice non posso andare al lavoro, non posso pagare le bollette, non posso pagare il mutuo, non so cosa fare. Quindi la scelta di non vaccinarsi porta a queste conseguenze visto le leggi che ci sono italiane. Ma è proprio questo quello che voleva il governo, mettere alle strette l'over 50 non vaccinato che non può andare al lavoro. Quindi cosa fai? Rimani a casa senza stipendio o ti vaccini e prendi lo stipendio così paghi le bollette il mutuo. Io credo personalmente che c'è il non vaccinato che ha paura della vaccinazione. Quindi la scelta è tra vincere la paura e avere stipendio e poter andare avanti a pagare le spese o dire non pago però quello significa poi avere delle conseguenze perché la rata del mutuo non la paghi una volta, alla seconda o terza volta che non viene pagata la banca comincia a mettere le procedure perché il cliente diventa cliente che non paga e quindi si scorre il rischio di farsi togliere la casa. Cominciano certi problemi, se non paghi le bollette dopo un po' cominciano ad arrivarti, non so se ancora tagliano la luce, forse non la possono tagliare però ti arrivano delle ingiunzioni di pagamento, ecco ti arrivano le cartelle di Equitalia. c'è un certo problema quando poi uno, ma proprio questo era l'obiettivo del governo, mettere l'obbligo agli over 50 era fatto per sostanzialmente una sorta di obbligo vaccinale che poi l'obbligo vaccinale c'è, nel senso che è stato messo però è stato accompagnato anche dal fatto, visto che io so che se ti metto l'obbligo vaccinale tu non ti vaccini lo stesso, io so che se ti metto la multa, che poi lo Stato non è stato capace neanche inviarla, se ti metto la multa tu la paghi e continui a non vaccinarti, allora io praticamente faccio una sorta di obbligo più forte, ti dico che non puoi lavorare e tu di fronte a questo devi andare a lavorare. Ecco, questo è quello che è successo, c'è l'obbligo vaccinale ma in più il governo ti dice e io non ti faccio neanche lavorare, tu persisti a non vaccinarti, ti mando la multa ma non sono capace, allora ti impedisco di andare al lavoro. Questo poi è stato la coercizione per indurti a vaccinarti. Naturalmente, come dice Giordano, se non puoi fare una sorta di discriminazione, non puoi dire, beh il turista deve girare l'economia, il turista no, il turista al Green Pass no. E quello che viene dall'estero per la crisi internazionale, no, a lui non è che gli posso chiedere il certificato, che vuol dire. E allora, a chi arriva per la crisi internazionale non si chiede il Green Pass. Ai turisti, perché devono far girare l'economia, non gli si chiede il Green Pass. E gli italiani gli chiediamo il Green Pass per salire sull'autobus, per entrare al ristorante, all'albergo. Questa discriminazione è una farsa, perché se tu vuoi mantenere la schiena dritta, dici il Green Pass è per tutti. Se no, è per nessuno. Dire sì, dire tu sì e tu no, significa fare discriminazione. E nel 2022 la discriminazione non è più accettabile. Beh, anche tante altre cose non erano più accettabili nel 2022, ma stanno succedendo. Cose da primi del Novecento. Purtroppo l'uomo, l'essere umano, non impara dagli errori del passato. Poi abbiamo anche oggi la cancel culture, cioè la cancellazione di quella parte della storia che non ci piace, che non è bella da raccontare o comunque non... Allora non dobbiamo raccontare di quel fatto lì, perché politicamente è stato un fatto incorretto 300 anni fa, quindi oggi non lo possiamo neanche ripetere nei libri di storia, non possiamo fare un monumento perché 300 anni fa era politicamente incorretto. Ma sapete quante cose politicamente incorrette sono successe anche solo cinque anni fa? Che oggi sembrano una cosa... Ah, senti cosa ha detto! Eh, va bene. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.